E salve a tutti ragazzi, sono Catalanico451, siamo qui tornati finalmente dopo, ancora una volta dopo tanto tempo, siamo qui tornati con un nuovo video. Siamo ovviamente tornati su Battlefield Play for free, sia perché ovviamente mi piace e sia perché, diciamo in questo modo, abbiamo modo di fare un attimo una breve chiacchierata per aggiornarci sulla situazione. Quindi direi di partire subito. Spero, spero, spero che dalla qualità video si noti che appena prima di Natale mi è giunto il computer nuovo e quindi le cose sono nettamente cambiate. Questo ovviamente apre le porte ad una spiocinata violenta da parte di un H64. In questa partita le andremo a prendere brutalmente ancora una volta, ma va bene così. E, come vi stavo dicendo, mi è arrivato il computer nuovo, quindi, insomma, siamo pronti a fare cose turche? Uh, 37. No. Bene, un RPG sprecato, ok. Quindi, che cosa farò ora? Beh, innanzitutto, non so cosa riuscirò a combinare, perché giustamente, quando, ovviamente, appena mi arriva il mezzo nuovo, non ho più moltissimo tempo a disposizione. Quello, però, che terrò assolutamente a fare, sarà, allora, qualche video di Payday 2, assolutamente, visto che ho praticamente lasciato a metà la serie, oltre al fatto che non ho mai nemmeno pubblicato video sull'Apocalisse, anche se ne ho già uno pronto, come avevo già pronunciato, c'è la banca Go. Critico, ovviamente, andiamo a una ricaricatina. Qui si aggira uno con lo shotgun. Ok, io direi di cambiare aria in maniera violenta. Arrivederci, salve! Oltre che, ehm, ho qualche idea sempre, magari, sul genere stealth, ma ci sono, ovviamente, anche altre cose, come, ad esempio, visto che ce l'ho e visto che ora mi gira, mi gira bene, potrei magari fare qualche video, a cavolo, su Black Ops 2, giusto così per, anche per variare un attimo nel genere FPS, visto che l'ho acquistato un bel po' di tempo fa, in uno dei rari momenti in cui Black Ops 2 è stato scontato di un po', e va, se non mi ricordo male, almeno il 50% di sconto. Intanto laggiù vedo una folla in avvicinamento. Quindi, facciamo un po' di camping, o ci buttiamo eroicamente in mezzo alla strada per farci errare? Come avete potuto vedere, ci buttiamo per la seconda. Ok, qui c'è il buon uomo. Ok, uno. Ok, due. Lì ce n'è un terzo. Oh, oh. Eh, vabbè. Bene. Spero comunque abbiate apprezzato l'impegno, ecco. Però stiamo vincendo, stiamo vincendo, attenzione, si fanno i punteggioni. Oh, vabbè, intanto che qui ho un carro armato, scusa, mi è proprio arrivato qui e mi ha detto vai, prendimi. Allora, che devo fare? Lo prendo. Salve, salve, arrivederci, arrivederci. Ma cosa fa? Sono deficiente. Salve, salve anche a lei. No, effettivamente è stata... Ecco. Vabbè, è stato strano ma divertente, credo. Ah, e ovviamente la cosa che ho preso, giusto per chiarire la situazione, ho preso il booster per gli RPG, perché se no è un po' un casino. Visto che già solo per un camioncino di colpi ce ne vogliono due, altrimenti, quindi, non abbiamo altra scelta. Anche se poco male, visto che in ogni caso siamo forniti di crediti in abbondanza. Mi spiace un pochetto di portarvi ancora una volta Oman, ma porto Oman principalmente per due motivi. Uno è che, come vi ho avuto già modo di dire, lì intanto c'è un po' troppa gente, Come ho già avuto modo di dirvi, ormai il 75% delle partite su Battlefield 4 Free sono su Oman. Quindi, o così, o po' mi. Ma l'altra cosa... L'altro motivo è perché, giocando sempre a Oman... Ok, scusate l'attimo di coso, ma... Adesso qui mi stavo un po' aggirando, perché so che ce n'è uno! Ho provato col pompazzo. Ma vaffanbrodo! Lo sapevo. Ma, appunto, giocando sempre solo a Oman, ho perso la mano, molto allegramente, con tutte le altre mappe. Quindi anche quelle in cui, insomma, riuscivo a dire la mia, come, non so, come Dalian o Dragon Valley, Adesso ci ho proprio perso la mano, non riesco... Non riesco a fare niente. Quindi, siccome comunque ci tengo a portarvi, magari qualche partita con un punteggio apprezzabile, Allora rieccomi qua su Oman, che tanto è un evergreen, decine a dire. Ok, vediamo di dare una mano al nostro amico, che si sta divertendo qui su B, sotto soletto. Vediamo di dare una mano, sempre che riesca a resistere fino al nostro arrivo, e non resiste fino al nostro arrivo. Mi schiaccia per lui. Guarda c'è l'anima sua! Guarda che provano di granata! Restituiamo il favore! Oh, oh, oh! Salve, salve! La capru! Oh, oh, oh! Attenzione, i peggio numeri per me! Oh, oh, oh! No, 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 no! Uh, il number, ragazzi! Mai me lo sarei aspettato, bisogna dire. Facciamo un rapido controllo, mi sembra non ci sia più nessuno da queste parti. Intanto c'è il nostro amico scout qua, che si incaponisce su B, bisogna dire. Ok, qui mettiamo i nostri soliti dissuasori, diciamo così. E vediamo di farci una corsetta, non è che si propone qualcuno. Intanto quanto stiamo? Vabbè, sì, con questo ultimo numero ho un po' risollevato le sorti di questa partita. Che ovviamente sono riuscito a fare partite migliori, ma tanto per cambiare, visto che non stavo parlando in live, ovviamente. Sono venute bene, anche se fortunatamente stavo facendo dei test. Stavo facendo dei test, quindi stavo registrando, quindi me le terrò assolutamente da parte, per magari farci, se mi dovesse servire un gameplay di sottofondo, per dire qualcosa. Oh, 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 oh! Dai! Via di qua, via di qua, via di qua! Abbiamo fatto molto danno, purtroppo. No! Ops! Chiedo scudo! Là! Intanto abbiamo... Oh, si è incassato negli alberi! Intanto abbiamo preso il controllo di B, ma la bandiera ora mi sembra ferma, intanto mi stanno sparacchiando alle spalle. Ma guarda te che sciamannati! Sì, dunque. Dov'è la mia... Eccolo là! Il nostro amico... Salve, buon uomo! Oh! Dov'è? Non è che è qui? Dov'è finito? Eh, perché non era quello che stava a correre... Oh! Eccolo qua! Ciao! Adesso ricarica, ricarica... Ah, ho finito i colpi! Mannaggia... Oh! Meno male che qua c'era la compagnia! Ok, vediamo di levarci da questo corpo, perché potrebbe anche avere il Dead Man Stringer. Quindi evitiamo, magari. Il problema, signori, il problema è che è impensabile, ma a questo punto sono arrivato a non avere più colpi. Ho un disperato bisogno di ammunition. Però intanto facciamo, ecco, un rapido controllo di... Ah, niente, è finita. Va bene, signori, questo era un po' il mio ritorno. Aspettatevi comunque a breve molti video. Insomma, cercherò di fare quanti più video possibili. Spero comunque che questo video vi sia piaciuto e vi abbia intrattenuto. Non ho altro da commentare per ora. Ci vediamo ad un prossimo video. Ciao ciao!